Salve a tutti, sono Patrizia Cornacchione e sono il presidente AITRO. AITRO è l'associazione dei tecnici di radioterapia oncologica e fisica sanitaria che ormai da 25 anni ha avviato la sua attività. In tutto questo tempo, tra i suoi maggiori obiettivi, è incluso la formazione e la valorizzazione delle competenze del tecnico operante in radioterapia. Cerchiamo sempre di essere vicini ai nostri soci e colleghi cercando di provvedere alla stesura di documenti, progettualità, position paper che possano rispondere a tutte quelle che sono le esigenze oggi richieste dalla nostra professione. Tra i nostri obiettivi è anche l'organizzazione di eventi, workshop, congressi nazionali su ogni regione del nostro territorio, in modo tale da poter essere vicini a tutti i nostri colleghi e di poter essere maggiormente inclusivi per tutte quelle che sono le loro esigenze e le loro esperienze.